Parliamo di endocardite, che è un'infezione endovascolare del cuore dalla parte endocardica oppure di device che sono correlati, quindi pacemaker, cateteri e protesi valvolari. La classificazione viene fatta innanzitutto in endocardite acuta e subacuta, dove la subacuta interessa valvole con processi degenerativi già in atto. Un'altra classificazione è in endocardite su valvola cardiaca nativa o su valvola protesica, a sua volta può essere essa precoce, entro un anno, o tardiva, dopo un anno dalla chirurgia valvolare, quindi valvola cardiaca nativa protesica, poi anche in base alle modalità di acquisizione in endocardite nosocomiale o acquisita in comunità. Il cuore sinistro è colpito più frequentemente, il cuore destro invece è colpito nei pazienti immunodepressi, defedati, HIV positivi, drogati. Al primo episodio l'endocardite viene definita originaria, altrimenti ricorrente. I microrganismi più coinvolti sono innanzitutto lo Staphylococcus aureus nel 31% dei casi, poi abbiamo gli Streptococchi viridans nel 17%, gli Enterococchi nell'11% dei casi e infine gli Staphylococci coagulasi negativi nell'11% dei casi. Quindi Staphylococcus aureus, Streptococchi viridans, Enterococchi e Staphylococci coagulasi negativi sono i più importanti, forse anche insieme agli oral streptococci, e a seguire abbiamo microrganismi meno importanti quali funghi e complesso ACEC con Emofilus influenzae, Acneobacillus, Cardiobacterium, Eichenella e Kingella. Quali sono i fattori di rischio? Innanzitutto l'età avanzata, il sesso maschile, l'ipertrofia ventricolare, una cattiva igiene dentale, la patologia valvolare pregressa, la presenza di protesi e emodialisi. Quindi soprattutto età, sesso, ipertrofia ventricolare, protesi, patologia valvolare, cattiva igiene dentale. Dal punto di vista fisiopatologico definiamo la condizione di persistenza come persistenza in protesi o persistenza in catetere. Si forma una cotenna fibrinotica che isola i microrganismi, quindi si formano vegetazioni, soprattutto in flussi turbolenti, e queste vegetazioni sono di fatto non responsive agli antibiotici. molto resistenti. La profilassi è importante. Soprattutto una banale detartrasi può determinare la disseminazione di sacchie batteriche sotto le gengive con batteriemia importante. Quindi la terapia antibiotica profilattica, di solito un'ora prima, è consigliata, soprattutto a base di amoxicillina, ampicillina e clindamicina. Dal punto di vista sempre epidemiologico sappiamo che le infezioni sono andate in crescendo, c'è stato un aumento, ma non per un reale aumento dell'incidenza, quanto piuttosto per il fatto che si mettono più device e dispositivi cardiaci, che sono un veicolo potenziale di infezione. Ora, chiaramente, la profilassi, quando si può fare? Si può fare anche in pazienti che hanno protesi valvolari, che mettono cateteri, oppure hanno valvulopatie e malattie congenite. Ad ogni modo, nelle procedure ad alto rischio, sono utilizzati soprattutto amoxicillina e ampicillina, singola dose due giorni prima. Se sono allergici, si fa la clindamicina. Questo per dire che anche malattie valvolari, protesi, pazienti con cardiopatia, cateteri, questi possono fare la profilassi anti-endocardite. Anche qui, se c'è un'infezione accertata, si può fare anche la profilassi preoperatoria, ma è scontato. Ora, parliamo dei segni e sintomi dell'endocardite. I soggetti si presentano con febbre nel 90% dei casi, che può essere annunciata da un brivido scuotente, quindi la febbre supera i 38-39 gradi, ci può essere inappetenza, perdita di peso e soprattutto un soffio cardiaco disfunzionale, da disfunzione valvolare. Gli streptococci beta-emolitici sono gli unici che danno una stenosi valvolare. Gli altri danno soltanto insufficienza. Dal laboratorio cosa troviamo? Abbiamo una leucocitosi neutrofila, con aumento della PCR e aumento della VES, e questo è fondamentale. Si va ad aggiungere anche l'aumento della procalcitonina e markers di disfunzione multiorgano. Per quanto riguarda le emocolture, queste vengono fatte da vene periferiche a 3 set a 30 minuti di distanza l'uno dall'altro, e ogni ciascuno deve contenere almeno 10 millilitri. Possono essere ripetute a 48-72 ore. Se l'emocoltura è positiva, allora si parte con la terapia. Se è negativa, non si può escludere le endocardite, perché magari il soggetto ha fatto una terapia antibiotica, oppure è un'infezione fungina, oppure l'infezione va avanti da tempo, quindi chiaramente, oppure i prelievi non sono stati presi in maniera adeguata, quindi positivo, bene, negativo, non necessariamente esclude. Il tempo comunque che intercorre tra prelievo e referto è di 5 giorni. L'ecografia. Per quanto riguarda gli esami strumentali, è un esame molto importante. Il transtoracico ha una sensibilità del 70%, una specificità del 90%. Il transesofagio non è che cambia tanto. La differenziale con cosa va fatta? Con trombosi, con le escrescenze di LAMB, con le lesioni reumatoide, poi dice anche il fibro e la stroma, ma il più importante sono appunto le escrescenze di LAMB, le lesioni reumatoide, oltre che la trombosi asettica. L'eco cosa vede? Vegetazioni, ascessi, abbiamo detto pseudoneurismi, perforazione dei lembi, e qui mette anche le descienze di valvole protesiche, quindi soprattutto ascessi, pseudoneurismi, vegetazioni e perforazioni. Se si hanno dubbi, dopo il transtoracico si fa il transesofageo. Deve essere fatto in 30 minuti, valutando tra i criteri diagnostici poco importanti, densità, sede, movimento, forma, soprattutto i criteri di rischio, quali sono? La localizzazione, quindi la sede, l'estensione, e le dimensioni delle vegetazioni. Nella fattispecie si fanno due misurazioni ortogonali, una in parallelo e una perpendicolarmente al limbo valvolare. L'attacca è un altro esame importante, soprattutto per ascessi e pseudoneurismi, però viene sopra avanzato dalla risonanza magnetica per l'encefalo, perché vede molto meglio i microsanguinamenti cerebrali. Spettac e pettacchi, invece, sono fatti soprattutto per depositi di leucociti, macrofagi, a livello del sito di infezione. Parliamo dei criteri di Duke, diagnostici. Per porre diagnosi di certezza servono i criteri maggiori, che sono due, quindi positività o per l'ecotranstoracico o all'ecotransesofageo. In aggiunta a questo, positività per le emoculture, due o tre prelievi, come abbiamo già detto, da accessi diversi. Poi abbiamo anche criteri minori, ovviamente se ci sono entrambi i criteri maggiori, la diagnosi è fatta, oppure se solo uno è soddisfatto, bastano tre criteri minori, oppure se nessuno dei due criteri maggiori viene soddisfatto, basta che vengano ottemperati tutti i criteri minori. Quali sono questi criteri minori? Predisposizione congenita, o acquisita, comunque predisposizione, febbre superiore a 38 gradi, fenomeni vascolari, fenomeni immunologici, evidenza culturale, quindi predisposizione, fenomeni vascolari, fenomeni immunologici, febbre, evidenza culturale. La terapia empirica, come viene fatta? Valutando, dice, precedente terapia, valvola nativa o protesica, luogo dell'infezione, ad ogni modo, prima utilizzeremo antibiotici ad ampio spettro, per quattro settimane minimo. Questi però danno effetti collaterali a livello renale o al nervo acustico. Quali sono? Utilizziamo, la valutiamo, l'ampicillina e la gentamicina in acuto o in patologia protesica tardiva, ampicillina e gentamicina. La vancomicina e la gentamicina, invece, se la patologia è valvolare prostetica precoce, oppure se è nosocomiale o da gram negativi. Quindi, ripetendolo ulteriormente, patologia valvolare prostetica, oppure acuta in acuzia in comunità, ampicillina e gentamicina. Patologia precoce, prostetica, nosocomiale, gram negativi, vancomicina e gentamicina. La terapia consta anche di ulteriori presidi, può durare anche sei settimane per quanto riguarda la protesi, valvola nativa di solito dura quattro. Abbiamo altri presidi farmacologici, che sono la rifampicina, dopo cinque giorni già ottiene dei miglioramenti, la daptomicina e la streptomicina, per gli stafilococchi soprattutto. Attenzione perché quando si fa l'impianto di pacemaker, va esso in prodotto sempre con una retina antibiotico relata attorno, per evitare la disseminazione microbica. Poi si può fare la terapia anche domiciliarmente, però con inoculazione antibiotica e endovena. La terapia chirurgica, in chi viene fatta? Viene fatta in soggetti che hanno uno scompenso cardiaco, con valvulopatia o edema polmonare fino allo shock cardiogeno, in chi ha infezioni che non sono controllate o controllabili, malgrado la terapia antibiotica, infezioni fungine oppure pazienti con embolia, quindi emboli settici si intende, quindi pazienti con scompenso cardiaco edema polmonare, 1. Infezioni non controllate nella nostra terapia antibiotica, 2. Infezioni microbiche da funghi, 3. 4. Embolie settiche. Le complicanze quali sono della endocardite? Lo stroke, quindi l'ascesso encefalico, le macchie di rot a livello del fondo dell'occhio, petecchie della pelle con emorragie nelle dita delle mani, questo è importantissimo, noduli di Osler, anche questi a livello delle estremità, quindi noduli di Osler, porpora di Ginaway, emorragie di milza e rene, quindi stroke, macchie di rot nell'occhio, petecchie della pelle, noduli di Osler, porpora di Ginaway, emorragia, milza e rene. Attenzione perché, per la verifica dello scompenso si può fare al solito il BNP, però il rischio di embolia è massimo nelle fasi iniziali. Concludiamo con l'endocardite su cuore destro, che abbiamo detto è più rara, colpisce di solito gli immunodepressi e i drogati, c'ha un'alta prevalenza proprio per questo di MR6, e colpisce ovviamente la tricuspide, soprattutto qui avremo cosa febbre, che c'è sempre, però emotisi e polmoniti, perché gli emboli vanno a finire anziché nel circolo a livello polmonare. C'ha un rischio di morte, soprattutto se l'infezione è fungina, o le vegetazioni sono di più di 2 cm, e comunque il trattamento anche qui a base di amoxicillina. La prognosi, in generale, le indicazioni chirurgiche per l'endocardite su cuore destro sono le stesse che troviamo per il cuore sinistro. La prognosi ovviamente si basa sulla valutazione di ricadute e reinfezioni. Le ricadute sono eventualmente infezioni che si verificano entro 6 mesi da un precedente episodio, le reinfezioni sono endocardite che si verificano per altri batteri rispetto a quello precedentemente contratto. Il rischio comunque è del 6%, con sopravvivenza da un anno a 5 anni dal 90 al 70%. La mortalità, se si verifica, si verifica di solito per septicemia. Quindi ricordiamo, per quanto riguarda la profilassi, amoxicillina, ampicillina e clindamicina, per quanto riguarda le terapie rifampicina, streptomicina, daptomicina per gli stafilococci, ma abbiamo anche la vancomicina e la gentamicina per le nosocomiali, i gram negativi e le prostetiche precoci, per le comunitarie e le prostetiche tardive, invece, diamo, oltre alla gentamicina, anche, abbiamo detto, la amoxicillina, ampicillina. Grazie. 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 Grazie.